Continuiamo a leggere alcune pagine del libro Roma, città prigioniera di Cesare De Simone. Siamo alla pagina 67 dove parla Marcella, la moglie del medico di Regina Celi, e parla della brigata Matteotti, che faceva parte anche Vassalli, e dice pensammo a questo punto Vassalli e Giannini come avvocati avevano accesso al tribunale militare, dunque dissero cerchiamo di organizzare la liberazione con falsi documenti. Vassalli e Giannini allora andarono al tribunale militare e dunque dissero cerchiamo di organizzarci bene con falsi documenti. Vassalli e Giannini andarono al tribunale militare con la scusa di salutare il generale Capo e rubarono alcuni moduli di scarcerazione in bianco. Un modulo vero, timbrato e firmato, me lo dette Sclitzer, una guardia carceraria, amica. Era un regolare ordine di scarcerazione e i nostri bisognava farli identici. Io per combinazione avevo conosciuto una persona che lavorava in un negozio di timbri a via Pie di Marmo, fu lui che mi fece i timbri uguali a quelli del tribunale militare. Riempimmo i moduli con i nomi e i cognomi e io mi allenai a fare la firma del procuratore militare. Facemmo sette moduli perché Alfredo disse Con Pertini e Saragat ci sono altri cinque compagni, dobbiamo dire fuori anche loro. I moduli erano dunque intestati oltre che a Pertini e Saragat a Carlo Bracco, Luigi Andreoni, Ulisse Ducci, Torquato Lunadei, Luigi Allori. Quando fummo pronti, mio marito avvisò la guardia. Dì a Pertini che domani si deve sentire male di notte. All'improvviso Pertini ebbe un attacco di appendicite. Alfredo andò a visitarlo e gli comunicò non dirlo a nessuno degli altri. Solo a Saragat con cautela. Stiamo, stiamo preparando l'evasione. Tieniti pronto. Allora Pertini, da dentro, perché continuava a comandare, mi mandava ogni giorno i bigliettini nascosti nel termos. Dio solo sa le paure che ci siamo presi. Io e Alfredo. Nenni e Vassalli fuori nominarono me a comandare l'operazione di liberazione della sua fase finale. Mi hanno dato per aiutarmi Filippo Lupis e un altro compagno, Sapienza, un avvocato. Dunque, aiutandomi con una lastra di vetro, con un'esattezza al millimetro, ho fatto sette firme del generale, che era il procuratore militare. Non mi ricordo il nome. Pensi, dopo la liberazione, ci siamo incontrati in una cerimonia. Lui mi disse Signora, mi ha fatto proprio un bello scherzo, perché i tedeschi se la presero con lui e volevano arrestarlo. Faticò molto per convincerli che non era sua la firma. Proseguiamo. Mio marito va dentro di notte e dice a Pertini E per oggi Schiltzer mi disse a luna del pomeriggio monto di guardia al centralino. Gli ordini di scarcerazione gli di a me che li porto direttamente al protocollo. Al protocollo c'era un altro simpatizzante nostro, il capoguardia Ugo Gala. Anche lui sapeva che i moduli erano falsi e avrebbe accelerato la pratica. Schiltzer dunque prende alle 13-7 moduli che gli porto personalmente. e li protocolla e li invia subito al dirittore donato Carretta Carretta con una R. Un passo indietro, due giorni prima io ero andata in visita a casa di Carretta che abitava al portoncino appresso al mio parlando di varie cose e anche dei molti detenuti politici che erano regina Celi. Io dissi sa è giunta voce che tra qualche giorno alcuni detenuti del braccio italiano saranno scarcerati. Carretta ha subito mangiato la foglia mi ha continuato a parlare del più e del meno così quando Gala gli porta gli ordini di scarcerazione egli capisce che è arrivato il momento si attacca al telefono interno e mi chiama signora Monaco sono arrivati quegli ordini di scarcerazione ma io la devo avvertire che da pochissimi giorni c'è una disposizione nuova i politici non li posso più rilasciare direttamente li devo far passare per la questura all'ufficio politici per la vendimazione da lì saranno scarcerati era un dramma perché la questura non sapeva nulla Carretta disse ancora c'è una scappatoia però se io ricevo un ordine anche telefonico dalla questura di lasciarli alla porta come dice la disposizione allora li posso liberare io però signora attenzione che sono le quattro e mezza e il coprifuoco c'è alle cinque in seguito alla prossima lettura che sono le quattro e mezza è la prima cosa che sono le quattro e mezza che sono le quattro e mezza e mezza